Incentivare i giovani piemontesi ad arricchire i propri curricula con esperienze formative riconosciute in tutta Europa per facilitare percorsi di inserimento sociale e lavorativo che aiutino a contrastare la disoccupazione giovanile. È l'obiettivo che si propone l'intesa siglata dal Consiglio regionale del Piemonte e dall'Agenzia Nazionale Giovani per valorizzare lo Youth Pass, certificato che da un lato attesta la partecipazione alle attività del programma Gioventù di Erasmus+, e dall'altro facilita l'autovalutazione dei giovani partecipanti. Pensando a uno strumento che ovviamente non abbiamo inventato noi ma che è stato messo a disposizione dei giovani dall'Agenzia Nazionale e dal Ministero abbiamo ritenuto di cogliere l'opportunità di firmare un protocollo che consente ai giovani piemontesi in qualche modo di accreditarsi, cioè di avere una possibilità di accreditamento. Il Piemonte è la prima regione in Italia a siglare l'accordo per promuovere la conoscenza e il riconoscimento di questo strumento nel quadro normativo regionale, quale documento ufficiale di certificazione dell'apprendimento non formale e informale. Con questo protocollo si cerca di dare un valore, di valorizzare in qualche modo anche delle competenze diciamo non formali acquisite negli anni anche con delle esperienze all'estero in modo che possano essere inserite in un curriculum. Ad oggi sono già circa 2500 i giovani piemontesi in possesso dello Youth Pass che può essere ottenuto anche da parte di chi per vari motivi non ha potuto frequentare o terminare gli studi universitari. Ciascuno che potrà fare l'utilizzo che vuole, la nostra idea, la nostra opinione e anche l'opinione della Commissione Europea è quella che questo debba essere qualcosa che arricchisca il curriculum vitae di tutti i giovani italiani ed europei. Alla firma anche il sottosegretario al lavoro Bobba che ha richiamato l'importanza del programma Erasmus+, per costruire un'effettiva cittadinanza e integrazione europea.